Se noi andiamo a vedere quale è il motivo profondo del fallimento politico del PD e perché noi il PD ce lo possiamo tranquillamente dimenticare, meglio così almeno abbiamo la testa libera per pensare a qualcosa di più collettivo, costruttivo e collettivo, credo che la ragione di questo fallimento sia stato il fatto che il PD per il motivo che vi ho detto mille volte, cioè perché l'Italia è un paese dove una parte della popolazione pensa di aver vinto una guerra che il paese ha perso e questa parte storicamente è la sinistra che tramite la, intestandosi la lotta partigiana si è intestata a una sostanziale vittoria di un paese che era stato sostanzialmente sconfitto, questa parte, quella che si sentiva migliore degli altri, e gli altri siamo noi, sostanzialmente ha demonizzato o rimosso il concetto di interesse nazionale. Lo ha demonizzato ritenendolo un residuato bellico del fascismo, da lei combattuto, vabbè, e lo ha rimosso sostituendo l'interesse nazionale con l'interesse europeo, al punto che, come sapete, c'è un famosissimo tweet dell'ex primo ministro che diceva quello che abbiamo fatto, non lo abbiamo fatto perché pensavamo nell'interesse dell'Italia, ma pensavamo che fosse nell'interesse dell'Europa. Però l'Europa chi è? E questo è il punto.